shop un bel leccozzo 3.000 vi bacchi il bundle dei simbionti 1.800 presi singoli andiamo a vedere prima agoni eccola qua quella viola che ha sicuramente il colore più più carino secondo me con le la reattività poi non è la reattività però è animato azzurra il lama dietro alla schiena anche questo è carino raga ci sta e il piccone sentiamo che il rumore fa anche il piccone raga un'animazione davvero carina ci sta poi sciveno questa si è sicuramente invece è più bella però il costume nero lucido e basta lo zainetto equipaggiati insieme ai picconi di estrai da lì però picconi doppi insomma raga e loro hanno un'animazione bruttina rispetto rispetto all'altro comunque carine le skin sicuramente raga da shopper ora vediamo se tutte e due o soltanto una e cattivoni disney sono rimasti poi è uscita cicuta 1500 vi bacchi eccola qua a due stili quello predefinito umano tra virgolette perché poi è verde anche nello stile così è quello stregato si può trasformare live usando le motte integrata eccola qua e poi allo zainetto zaino delle tenebre 1500 invece elmira la strega questo è un po che non usciva prima usciva ogni mese a quattro stili di fuoco di ghiaccio predefinito e oscuro ali magiche 1200 vi bac abbastanza bruttini questi questi questo deltaplano poi pigiamini mi ascono altre skin alla wake emilton spider woman insomma è rimasto all'armadietto di aldo è rimasto anche lui e flusso forte dai abbiamo i like it move it 500 vi bac showia 500 vi bac battito fluido 500 vi bac salta in giro invece 400 vi bac poi abbiamo stile distintivo il bundle di kira a 1700 vi bac ci danno la skin i piccoli e il deltaplano 500 i picconi presi singoli kira 1200 e 800 invece deltaplano poi abbiamo jing bang 1200 vi bac picco 8 anche morte mandarina 500 vi bacche electro swing qualcuno chiedeva l'altro giorno in live eccolo qua 500 di bag super classico di forte e poi destino 2000 vi baccozzi anche questa è una bella skin i pacchetti dovrebbero essere sempre gli stessi ci sono nuove tracce gem a chi interessa credo nessuno di pacchetti non c'è niente di nuovo allora qualcuno forse anche andato via ci fermiamo qui ragazzi domani mattina c'è l'aggiornamento hanno annunciato ieri quindi non si sa bene che cosa ci butteranno dentro sicuramente l'evento finale forse forse la nuova mappa in fortnite reload comunque live sempre le tre e mezza quindi se va di venire a giocare raga passate di liceo grazie a tutti grazie a tutti